Rileggere il passato attraverso i suoi protagonisti per capire meglio il presente e affrontare il futuro. È lo spirito che accompagna il libro scritto da Mario Parigi dedicato alla figura di Vannuccio Faralli. Una biografia che vuole essere un momento di riflessione sereno, obiettivo, così come il suo protagonista. Vannuccio Faralli, storia di un'Italia dimenticata. Questo è il titolo del volume presentato in Palazzo Strozzi Sacrati, nella sede della Giunta regionale. Presenti il presidente della Giunta Eugenio Gianni, il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Baldospini e il presidente della sezione Ampi di Cortona Emanuele Rachini. L'incontro è stato promosso dalla Regione, dall'Ampi e dalla Fondazione Nicodemo Settembrini di Cortona. L'intera vita di Faralli è avvincente come un romanzo. Elencare le tappe della sua esistenza significa avere davanti una lunghissima serie di esperienze di vita. Con questo libro dunque, Cortona, dove Faralli era nato, vuole ricordare una figura di rilievo della storia contemporanea del nostro paese.